Entro questo fine settimana si saprà se la Granarolo sceglierà il Molise per il suo progetto che prevede l'arrivo di 12.000 vacche nei terreni del basso Molise. L'ho fatto sapere il senatore del PD Roberto Ruta che sin dalla scorsa estate, da quando cioè si era iniziato a parlare dell'insediamento della Nursery, aveva appoggiato e sostenuto l'iniziativa definendola un'opportunità per il territorio. Solo quattro mesi fa sembrava ormai tutto deciso e imminente la firma dell'accordo e invece poi ci sono stati una serie di rinvii dovuti anche alla candidatura per i finanziamenti ministeriali proposta dalla società bolognese che investirà 18 milioni di euro per dare il via al progetto Granmanze. I terreni di interesse che sarebbero stati visitati sono quelli di Guglionesi, Larino e San Martino in Pensilis e proprio sugli ultimi due centri che stando ai rumors si sarebbe concentrata l'attenzione della Granarolo. A riportare in cronaca il progetto è stata l'associazione Larino Viva secondo la quale San Martino sarebbe il territorio prescelto e secondo la quale un gruppo di proprietari terrieri sarebbe stato in Spagna per visitare l'altro sito della Granarolo che ospita 7 mila manze. Per l'associazione si tratta di una sorta di svendita del territorio per cui il vero sviluppo è rappresentato dall'agricoltura e dal turismo. Intanto del progetto se ne è parlato anche nell'ultimo consiglio comunale di San Martino dove il sindaco Massimo Caravatta rispondendo a un'interrogazione della minoranza ha confermato in contatti con il gruppo bolognese spiegando però di non aver mai avuto un incontro ufficiale. Vogliamo prima capire bene di cosa si tratta e che ritorno occupazionale ci sarà ha fatto sapere il sindaco non nascondendo però il concreto interesse della Granarolo per i terreni di San Martino.